Lovers, congratulazioni! Abbiamo finalmente le nostre prime coppie ufficiali. Cristina e Cristian. Monica e Daniel. Rebecca ed Antonino. Giulietta e Cesare. E infine Giulia e Denis. A partire da adesso passerete un mese intero all'interno di questa meravigliosa villa condividendo tutto. E quando dico tutto intendo anche il letto. Avete capito bene. Ci saranno un sacco di sorprese dietro l'angolo come per esempio l'arrivo di nuove ragazze e nuove ragazze o meglio ancora, come piace chiamarle a noi qui a Love Island, i bombshell e le bombshell. Per forza. Sappiate che il pubblico da casa avrà un ruolo molto importante e sarà un po' come Cupido. Perché grazie all'app ufficiale di Love Island Italia avranno la possibilità di influenzare le vostre relazioni, modificare l'andamento del gioco e votare soprattutto la loro coppia preferita che vincerà in un premio finale di 20.000 euro in gettoni d'oro. Mi raccomando occhi aperti e cuore in mano sempre e a questo punto non mi resta che augurarvi buona fortuna e buona prima edizione di Love Island Italia, ragazzi. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Ciao.